per quattro minuti tratto da i protetti della gran signora di paolo fantin mi seguite state dunque attento ed il cavaliere baldi fissò i suoi occhi penetranti sul viso di marco fulvi il nuovo pretendente ha commesso della ditta baldi ec importantissima casa di commercio non perdo una sillaba signor direttore dunque appena arrivato a cittanova alle 9 30 precise affrettatevi alla ditta mori so da fonti sicure che potremo ottenere un'ordinazione di circa 10.000 lire se voi sarete là in tempo tra le 9 30 e le 10 giusto perfettamente dalle 9 30 alle 10 badate beh i prezzi nostri sono fissi come dal campionario sicché dipende solo dalla vostra prontezza se otteniamo o no questa importante ordinazione si figli di me cavaliere sta bene con l'occasione dopo fate una scappatina alla ditta ceschi quella sarebbe un buon cliente per noi ma finora nessuno dei miei viaggiatori riuscì ad avviare con essi relazioni di affari non dubiti spero di riuscire il cavaliere si ripiegò sullo scrittoio mentre il giovane uscì rapidamente una terribile disgrazia aveva gettato marco fulvi appena quindicenne alla difficile conquista del pane quotidiano la morte del babbo quei giorni rassegnato al volere di dio si sentì fatto uomo e interrotti gli studi si affannò a destra e a sinistra per occuparsi cercò si raccomandò i pochi risparmi sfumavano e le novene con la mamma e le sorelle si susseguivano insistenti quando gli venne l'offerta del cavaliere baldi di entrare in prova come viaggiatore nella sua ditta lavoro oltre che nuovo particolarmente difficile ma dio l'assisterebbe questo pensiero gli dava fiducia mentre il treno lo portava a cittanova dove arrivò puntualmente alle 9 30 marco non perdette tempo nel recarsi sulla via centrale dove gli indicarono là in fondo i magazzini della ditta mori a 10 minuti di strada al più la vicino una chiesa spalancava i suoi battenti effondendo un profumo di rose ed incensi il nostro giovane si fermò e guardò l'orologio le 9 e 35 era la festa della vergine di pompei perché non andrebbe a pregare tre minuti dinanzi all'altare della madonna anzi ad accendere una candela per il buon successo dei suoi affari e gli era in prova e la più piccola malefatta o in successo potevano rigettarlo nella disoccupazione entrò pigliò una candela a fianco dell'altare e depose un'offerta poi accesala recitò devotamente una decade del rosario quattro minuti dopo egli usciva in breve raggiungeva la meta un giovanotto usciva allora dalla casa mori portando sotto il braccio una busta di campioni e gli salutò marco come è uso tra la gente dello stesso mestiere sapete se c'è signor mori chiese questi ricambiando il saluto sì è qui nello studio grazie ed entrò una certa nervosità gli percorreva la mano mentre girava la maniglia della porta il vecchio mori guardò la tessera di riconoscimento tesa gli disse ah voi siete la gente di baldi mi dispiace proprio ma ho passato la mia ordinazione al viaggiatore della ditta effati che se ne andò ora a quel signore articolò appena marco l'avete incontrato tanto meglio vedete ormai che e non potreste aggiungere lo stesso per la ditta baldi mormorò marco sballordito voi siete arrivato tardi io non ero sicuro che baldi avrebbe mandato voi ora è fatto buongiorno come ne uscì e come scese i tre gradini sulla via marco non seppe gli pareva di impazzire egli a gente in prova si era lasciato sfuggire una ordinazione di dieci mila lire come presentarsi al cavaliere che dirgli e allora pensò alla sua candela bruciante l'altare della vergine con una certa amarezza per quattro soli minuti quattro minuti di preghiera ma poi si ricompose e cacciò un po l'avvenimento altre cose aveva ancora da fare specialmente abbordare quella di taceschi che lì sul libretto di ordinazioni non figurava che di nome infatti egli vide il direttore uomo d'affari e di poche parole che esaminò il campionario sembrandone ben impressionato e che gli diede un piccolo ordine per circa 200 lire era poco ma ciò non era male e rompeva il ghiaccio tra le due ditte il quarto d'ora alla presenza del cavaliere baldi è facile immaginarlo che descriverlo marco si sentì di non poter tacere quando il principale insistette per sapere se non s'era comunque attardato di quella sua fermatina gli fece di notare però come dalla vita mori egli ci fosse a tempo giusto molto prima delle dieci io sono molto insoddisfatto di voi fulvi negligenza è una parola moderata a caratterizzare la vostra condotta ma come mi sembra che la vita abbia bisogno di preghiere e sentimentalità gli affari sono affari signor mio mi scusi quattro soli minuti chi poteva prevedere io non sono ancora deciso a tenervi a mio servizio ne vi licenzi ancora vedremo più tardi le settimane venture mettetevi di impegno il giovane lavorò straordinariamente nei giorni seguenti e con buoni frutti quasi quasi il suo primo sbaglio poteva sperarsi cancellato una sera ritornando in treno entrò in conversazione con un altro commerciante avete udito dalla catastrofe mori è fallito per circa un milione come e marco guardava attonito la dita mori di cittanova un mio amico impiegato dal loro avvocato me lo disse stamane e lo si vociferava già ieri sera appena il treno si arrestò il nostro amico balzato in auto filò dal cavalier baldi questi la colse sorridente so già tutto ho ricevuto anch'io una comunicazione stamane si tratta di cifra altissima ed io lo stimavo e pensare che quasi io ritiro ciò che vi dissi giorni fa signor fulvi la vostra azione ci salva di circa 10.000 lire la ditta effati che gli spedì subito tutta contenta le merci sarà pagata a prezzo di fallimento se lo sarà come il solito il 5 o il 10 per cento e il cavaliere rise forte ho molto piacere cavaliere forse quella mattina la vergine mi ha fermato apposta perché così arrivassi dopo l'altro io me lo sono sempre detto che sarebbe finito tutto bene in bene e dire troppo poco giovinotto è strano il cavaliere non aveva fatto smorfi all'udir quel santo nome guardate quassù è presa dallo scrittoio una lettera datilografata la tese al nostro amico che ne dite e questi ad occhioni spalancati lesse signor baldi in relazione con l'ordine dato pochi giorni fa al vostro signor fulvi vi facciamo noto che soddisfatti della qualità e dei prezzi delle merci spediteci abbiamo deciso per ora di stringere con voi un contratto per questa specie di merci per l'approssimato valore di 12 o 15 mila lire vostri ceschi ec cittanova ceschi 12 mila lire marco alzò gli occhi cercando quelli del suo principale che vi pare ridomandò questi mentre stava cercando tra i suoi libroni ecco non saprei chi poteva prevedere valbettò l'altro esultante ma gli veniva dal cuore la parola dei libri santi è beato colui che spera nel signore ed ora sperimentava che era sempre vera anche se trattasi di soli quattro minuti ma la sua gioia non ebbe limiti quando avvicinatosi allo scrittoio il cavaliere li fece controfirmare sul libretto del personale della ditta le seguenti parole dopo la data marco fulvi fu guglielmo nato eccetera viene assunto in pianta stabile come commesso viaggiatore stipendio mensile lire 700 e provvigioni di uso che vi pare dunque o cavaliere grazie e dovette lasciarsi stringere la mano dal cavaliere baldi che lo guardava fissamente con allegra cordialità nei suoi occhioni leali il giovanotto cattolico se però il nostro marco avesse potuto leggere nel cuore del suo principale avrebbe scoperto che il cavaliere baldi assumendolo nella sua ditta con lo stipendio di lire 700 aveva fatto e forse anche di più il calcolo di prendere al suo servizio in un certo modo anche la bontà preveggente della vergine misericordiosa grazie a tutti Grazie a tutti